Toscana, Liguria e Lazio fanno squadra per realizzare la ciclovia tirrenica lunga 1200 chilometri da Ventimiglia a Roma. Gli assessori alle infrastrutture delle tre regioni, Vincenzo Ceccarelli per la Toscana, Fabio Refrigeri per il Lazio e Giacomo Raul Giampedrone per la Liguria, hanno firmato a Firenze il protocollo che permetterà di accedere ai finanziamenti statali previsti dal governo per le ciclovie di interesse nazionale. Passaggio indispensabile per la realizzazione della ciclovia che solo in Toscana copre 560 chilometri, tra siti archeologici, aree protette, costa e città d'arte e arcipelago. Vogliamo assolutamente avere una progettazione condivisa, una segnaletica cartellonistica e promozione omogenea e condivisa. Credo che l'unità fa la forza. La firma 3 consentirà a Toscana, Liguria e Lazio di presentare il progetto della ciclovia tirrenica al Ministero delle Infrastrutture. Ad oggi 700 chilometri del tracciato sono già percorribili in sede separata o promiscua e uno degli elementi di forza è l'interconnessione tra i percorsi. Poi la connessione con la Toscana e la Liguria ci apre anche tutta una rete di minore di ciclovie e di piste ciclabili che credo sia di grande interesse per chi vive la mobilità anche con questa modalità. Tra gli obiettivi del protocollo c'è anche la presentazione di proposte attraverso bandi nazionali e comunitari e la promozione condivisa della ciclovia che per i tre assessori è un passo avanti verso una nuova frontiera del turismo e l'unione tra Toscana, Liguria e Lazio è una garanzia di qualità. Abbiamo una cosa in più rispetto ai nostri antagonisti che presenteranno altri progetti, credo un territorio straordinario perché tutta la Liguria, tutta la Toscana e gran parte del Lazio in un territorio costiero credo sia veramente invidiabile nel panorama europeo. In Toscana la ciclovia tirrenica è inserita anche nella rete ciclabile Bicitalia ed Eurovelo ed è già collegata ad altre importanti ciclovie come quella dell'Arno e la Francigena.